Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Poco più di un anno fa si riuniva, come ormai succede da molti anni a Pontida, il popolo leghista. Oltre 80.000 leghisti in un'atmosfera straordinaria, di festa, di gioia. A questo incontro ha pensato bene di intervenire anche il giornalista Gad Lerner, che è stato accolto da fischi e da insulti, per la verità, da un ristretto gruppo di persone. Ora, dovete ricordarvi, per chi se lo fosse dimenticato, che qualche tempo prima Gad Lerner aveva dato al leader della Lega Matteo Salvini della merda, esattamente così, e gli aveva augurato la morte. Ora, voi capite che se tu vieni a casa mia e ti sei espresso in questa maniera nei confronti del mio leader politico, non credo che tu possa, così, aspettarti di essere accolto a vino e tarallucci. Ma in quella circostanza, la stampa di sinistra aveva dato dei provocatori ai leghisti, dei razzisti, dei fascisti, dei nazisti, le solite cose che noi ormai abbiamo imparato a conoscere da parte di questa stampa di sinistra e anche da parte dei politici di sinistra. Ora invece, poche settimane fa, Matteo Salvini è intervenuto a Mondragone, ha fatto visita a quella cittadina in grandissima difficoltà che viveva, un momento drammatico, perché c'erano delle posizioni contrapposte tra un gruppo di bulgari che vivono in quella cittadina, che sono dei braccianti, che di solito in questo periodo lavorano i campi, che erano stati messi in quarantena e che però così si erano rifiutati di rimanere in quarantena. E ne era nato un conflitto abbastanza importante. Ecco, Matteo Salvini era stato accolto da dei faccino rosi in maniera molto aggressiva, in particolare da questi personaggi dei centri sociali. Ma in questa circostanza, Matteo Salvini era stato definito un provocatore. Ora voi capite, nella prima circostanza non era Gad Lerner il provocatore, ma era il popolo della Lega ad essere intollerante, fascista e razzista. Nella seconda circostanza, non sono i centri sociali ad essere intolleranti e fascisti, ma è Matteo Salvini ad essere un provocatore. Questo è lo scenario che, ripeto, noi conosciamo ormai perfettamente. Voglio aggiungere una cosa su questi episodi. La cosa che mi sorprende non è l'atteggiamento della stampa di sinistra e dei politici di sinistra. Ancora una volta, quello che mi sorprende è la non-reazione da parte della stampa di destra. Vedete, in queste circostanze sarebbe doveroso e strategicamente, e ve lo dice uno che per anni si è occupato di comunicazione, fare le analogie a livello dei comportamenti. Io non ho sentito nessun giornale, io non ho sentito nessun commento nelle trasmissioni televisive fare appunto questa analogia fra il comportamento di Gad Lerner e Matteo Salvini e fra la reazione del popolo leghista e i centri sociali che hanno insultato e attaccato Matteo Salvini. Questo è quello che mi fa riflettere e mi lascia basito. Ora, ed è gli ultimi giorni, la visita del leader della Lega Matteo Salvini a Lampedusa. Una visita assolutamente pertinente per un leader dell'opposizione che va a vedere come stanno le cose perché c'è una certa criticità. Sempre più migranti sbarcano, ma non in una situazione normale, in una situazione che sappiamo di emergenza anche sanitaria. E come viene apostrofato? Come al solito. Provocatore. Razzista, fascista e così via. Da parte di tutta la stampa di sinistra. Ma questi episodi ormai si susseguono. Si susseguono ogni qualvolta che Matteo Salvini interviene. Qualsiasi sia la sua riflessione, qualsiasi sia il suo intervento. Cioè, l'intolleranza, quindi, come vedete, è sicuramente da parte del popolo della sinistra e da parte della stampa di sinistra. Ora, è evidente che tutto questo viene continuamente strumentalizzato. E si ha più l'impressione che Matteo Salvini, più che essere il leader dell'opposizione, sia il primo ministro di questo paese. Ora, io credo che il popolo della Lega e in generale del centrodestra debba tantissimo a Matteo Salvini. Ricordiamoci sempre che non tantissimo tempo fa la Lega partiva dal 4% ed è arrivata fino al 34%. Solo per questi motivi credo che il popolo della Lega dovrebbe fare un monumento a Matteo Salvini. Però, come in tutte le situazioni della vita, ad esempio anche nello sport, ma anche nella politica, io credo che è importante, necessario, strategicamente fondamentale capire anche il momento nel quale magari bisogna fare un passo indietro per il bene del proprio partito e per il bene della propria coalizione. E la domanda che pongo a voi, che mi faccio e pongo a voi, se non sia arrivato il momento per il bene della Lega, per il bene del centrodestra, che Matteo Salvini appunto faccia un passo indietro. che non vuol dire uscire dalla politica, non vuol dire uscire dalla Lega, tutt'altro. Lui deve continuare a fare il leader della Lega. Ma probabilmente, siccome prima o poi torneremo a votare, io credo che ci vorrebbe un leader della coalizione del centrodestra differente. Uno, ad esempio, come Giorgetti. Molto più problematico per la sinistra da attaccare. Cioè, non troverebbero il pretesto i giornalisti della sinistra e i politici della sinistra per attaccare un personaggio come Giorgetti. Questa è la riflessione che io sto facendo. L'idea che ho, ritengo che ci vorrebbe probabilmente un cambio di leadership, ripeto, non tanto nella Lega, ma nell'opposizione, da presentare eventualmente a delle elezioni. Sarò evidentemente, come sempre, curioso di leggere le vostre idee e le vostre opinioni. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera. vi auguro un buon pomeriggio in più. Grazie.